buona serata a tutti cari amici fan e bentrovati per questo ultimo video anche di questa bella giornata di videoclip direi parliamo di calcio maschile coppa italia di serie c o come si chiamava prima lega pro semifinali gara di ritorno la juventus under 23 dopo aver pareggiato il computo totale con la feralpi salò quindi aver chiuse 90 minuti sul 2 a 0 e quindi il risultato totale 2 a 2 in riferimento alla sconvitta per 2 a 0 all'andata nei tempi supplementari ha fatto altri due gol e quindi ha superato per 4 a 0 la feralpi salò quindi i bianconeri under 23 con il risultato complessivo globale di 4 a 2 superano la feralpi salò vittoria della juventus quotata 1 e 95 2 0 5 1 e 90 1 e 95 e accedono alla finale della coppa italia serie c in attesa della prossima sfidante che uscirà fuori dalla partita che si svolgerà domani di ritorno tra catania e ternana quindi juventus under 23 feralpi salò 4 a 0 risultato totale bianconeri battono la feralpi salò 4 a 2 ciao a tutti buona serata buonanotte ci vediamo domani ciao